ciao a tutti quanti nuovo video let's try it si la stessa sera proprio abbiamo smesso questi qui al tiramisù e adesso ne facciamo un altro così ne carico per due o tre giorni un altro assaggio sempre trovato oggi da mio amico cinese e sono i pochi alla pesca sempre col dettaglio cuoricinoso qua per aprire sono molto teneri pucci pucci che non si vede un cazzo praticamente c'è scritto share happiness condividi la felicità abbiamo scatoletta viola fucsia forse si apriranno da qua c'è il segno oh mio dio pesca parente del mango mamma sa profumo come la polvere del tè scusa vuol sentire la candela pesca è quella che ho preso perché oggi ho preso anche una yankee candle della candela summer peach ecco la rimetto è praticamente pesca pura e adesso assaggiamo una tè ecco praticamente colore quasi bianco pelle anemica praticamente come io e te e quasi diciamo si c'è bianco sporco mamma mia andiamo 3 2 1 via mamma mia che buoni ci staranno chiedendo quelli che mi seguono ma non avevi fatto un video che sei in crisi con il peso e ti mangi questi pezze si lo so buonissimi ti do 9 anche a questi buonissimi certo uno non ti soddisfa niente perché ti pulisce qua si c'è mangiarli proprio tutti insieme appunto comunque per me è 9 assicurato quindi questo era un nuovo let's try it dei pochi alla pesca e ci vediamo in un prossimo video assaggio sempre con luca o forse in compagnia di gioia non si sa se avrà voglia ciao a tutti quanti ciao a tutti